Una volta in possesso delle tessere chiederei ai colleghi di fare in fretta. Battelli, Misiani, Sarti, è chiusa la votazione. La Camera respinge quattro favorevole con riformulazione Molteni. Vuole votare la riformulazione a valutare l'opportunità di... Appunto. Il Governo ci chiede, scriviamo, nell'ordine del giorno, il collega Molteni scrive a valutare gli effetti applicativi. E nel caso applicare con urgenza ogni provvedimento utile, anche normativo, che consente di evitare ingiustificate richieste di adeguamento delle garanzie sui finanziamenti. Il Governo ci chiede di mettere a valutare di adottare provvedimenti se le richieste sono ingiustificate. Perché deve valutare se adottare dei provvedimenti nel caso di richieste ingiustificate, sottolineo. Mi sembra una posizione folle del Governo, quindi chiediamo di votare. Bene, va bene. Allora, il Governo non mi sembra abbia intenzione di cambiare il parere. Metto in votazione l'ordine del giorno numero 4, Molteni, a questo punto con il parere contrario del Governo. Ho capito bene, onorevole? Bene. Parere contrario del Governo, è aperta la votazione. Blagina, Biasotti, Gullo, Alli in arrivo, forza colleghi perché ce ne abbiamo molti da votare. Carrescia, Turco, Vico, Onorevole Vico, non si vede.